Era questo il nascondiglio degli ovuli di droga nel bel mezzo di un boschetto di Pieve Maiano. Qui il giovane aveva creato un vero e proprio deposito. Tra la vegetazione nascondeva lo stupefacente oltre mezzo chilo, quello ritrovato dalla polizia. Adesso è finito in manette. Si tratta di un 22enne pregiudicato di origine marocchina, in regola con le norme sul soggiorno, ormai da vari anni residente a Monte San Savino. Il giovane di giorno lavorava ufficialmente come ambulante, ma in realtà la sua principale, più redditizia attività, consisteva nello spaccio di stupefacenti, in particolare il Charas. Si tratta di un tipo di hashish più raffinato e costoso, prodotto dall'estrazione della resina di cannabis. Sul mercato ogni grammo vale circa 10 euro. La squadra mobile della Questura di Arezzo, guidata da Francesco Morselli, da tempo seguiva i suoi movimenti. Grazie a continui appostamenti, gli operatori della sezione antidroga adesso sono riusciti ad individuare il deposito dello stupefacente. Lì hanno sequestrato 60 ovuli, ognuno contenente 10 grammi di Charas, per un peso totale di 650 grammi. Sopra ogni ovulo, la lettera H, come hashish, per facilitare così il trasporto da parte del corriere. Si tratterebbe della prima volta che questo tipo di sostanza viene sequestrata nel territorio aretino. Per il 22enne sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.